Seminiamo il lino per la cura del corpo e cosmetica naturale. Noi lo seminiamo a novembre oppure tra febbraio e marzo. Zappiamo il terreno eliminando le erbacce e lasciamo riposare il terreno per circa 10 giorni. Tra i semi ricavati dallo scorso anno ne prendo un po' e vado a spalmarli direttamente sul terriccio, senza molta fatica. Praticamente semino tanto quanto mi basta. Personalmente lo uso soprattutto nel pane fatto in casa. Ho balsamo per i capelli. Quindi mi bastano 16 metri quadrati di terreno e circa 200 grammi di semi di lino. Si può comunque tranquillamente seminare anche nei vasi. Dopodiché innaffio per una settimana ogni due giorni. Se piove non c'è bisogno di innaffiare. Dopo circa 4 mesi ecco il nostro lino. Tra poco è pronto per raccogliere. È bene ricordare che i semi di lino hanno un alto contenuto di minerali. Ciao, alla prossima!